Buonasera Andrea Cataldo della Sicilia, le chiedo qual è in questo momento il sentimento che lei e la sua squadra provate in questo momento dopo questa sconfitta a Casalinga? Sicuramente fa tanto male perché perdere con la maglia del Catania non è mai bello. Noi abbiamo trovato una squadra forte come il Sorrento, questa partita non come le altre abbiamo giocato più senza palla perché abbiamo trovato una squadra importante che giocava bene e hanno fatto una gran partita. E' possibile che il Catania avendo vinto il campionato molto in anticipo quest'anno abbia poi un po' sofferto dei cali di tensione? E' possibile che oggi la squadra fosse, non dico in vacanza, però un po' con la testa altrove? Secondo me noi in allenamento mettiamo sempre tanta intensità, comunque non abbassiamo mai la sticella, comunque capitano partite dove non riesci a proporre il gioco, dove giochi con meno palla. Comunque oggi è capitata una partita del genere. Secondo me è anche un po' la vittoria del campionato in anticipo che ci ha portato ad avere questo atteggiamento, ma inconsciamente perché noi diamo sempre il massimo perché sappiamo l'importanza della maglia che indossiamo. Ciao Mattia, Marco Zappala per City Zone. Forse dopo l'errore dell'arbitro vi siete anche un po' innervositi troppo, non siete più riusciti insomma a giocare per quanto poi la prestazione in generale non è stata delle migliori? Sì, sicuramente l'arbitro non ci ha aiutato, ma diciamo che anche noi ci abbiamo messo del nostro oggi perché non era il solito Catania che siamo abituati a vedere. E comunque abbiamo giocato anche contro una squadra forte come il Sorrento che viene da un campionato vinto all'ultima giornata con tanto entusiasmo. Comunque anche questo non ci ha dato una mano. Poi l'arbitro fa parte della gara, fa parte del gioco, fa le sue scelte come noi facciamo la nostra partita. È stato un problema fisico secondo te a livello atletico? Forse loro andavano un po' più veloci, la gamba andava un po' meglio? No, secondo me è stato solo un problema mentale che comunque loro stavano bene, si vedeva, giocavano bassi per poi ripartire. Poi quando avevano la palla giocavano bene, la giravano bene e noi abbiamo spiegato tante forze a correre dietro la palla.